cosa significa essere donna nel contesto del cristianesimo e del buddismo è quello che scopriremo oggi ispirandoci alle figure di maria maddalena nel cristianesimo e di machig labdron nel buddismo conosceremo l'importanza che le due tradizioni attribuiscono alla dimensione femminile come parte fondamentale della crescita spirituale prima di cominciare ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina attraverso il dialogo fra cristianesimo e buddismo possiamo crescere insieme nel cammino spirituale grazie di cuore nel cristianesimo maria maddalena emerge come una figura centrale spesso descritta come l'apostola degli apostoli infatti dal vangelo di giovanni sappiamo che è stata la prima testimone della risurrezione di gesù e che subito è corsa ad annunciare la buona notizia agli apostoli la sua storia ci mostra il potere dell'amore e della resilienza che nonostante le maldicenze sulla sua reputazione l'hanno resa capace di accogliere in pienezza il messaggio evangelico nel contesto buddista invece incontriamo machig labdron una figura rivoluzionaria nel buddismo tibetano machig è conosciuta per aver fondato il lignaggio del chod una pratica spirituale incentrata sulla recisione degli attaccamenti o demoni e la coltivazione della compassione universale la sua vita ci testimonia che seppur con molte difficoltà si può condurre una vita spirituale piena senza rinunciare alla propria femminilità e alla dimensione più peculiare dell'essere donna quella della maternità tornando al cristianesimo nel vangelo di giovanni al capitolo 20 maria maddalena nonostante la disperazione per la morte di gesù si alza di buon mattino per recarsi al sepolcro dimostrando così una determinazione incrollabile nel voler stare insieme all'amato del suo cuore questo suo andare da gesù è intriso di un amore profondo reso ancora più evidente dal fatto che nonostante il sepolcro fosse vuoto e i discepoli fossero già tornati a casa maria maddalena rimane lì lei vuole stare vicino a gesù questo è il suo desiderio l'ultimo posto dove sapeva di poterlo trovare era proprio in quel sepolcro un luogo di morte ma gesù non è lì e maddalena piange perché non può onorare il corpo del suo amato è un'immagine bellissima e potentissima proprio questo suo amore che va oltre la morte e questo suo rimanere ferma in quel luogo nonostante sembri che non ci sia più nulla da fare provocheranno l'incontro che cambierà per sempre la sua vita senza questo desiderio immenso di maria maddalena non ci può essere nessun incontro dio si manifesta dove è amato perché dio è amore dio lo incontri se lo desideri perché dio rispetta la libertà dell'uomo se non è desiderato non si impone con la forza è come se il modo di amare di maria maddalena rendesse presente l'oggetto del suo amore se ci pensate capita anche a noi di provare amore per chi è lontano o per chi non c'è più è come se il nostro amore rendesse presente la persona amata con la quale possiamo coltivare una relazione anche più intima e personale rispetto a quando era fisicamente presente accanto a noi l'incontro di maria maddalena con gesù risorto rappresenta il culmine della sua fede e della sua esperienza spirituale facendola passare dalla morte alla vita è lei che risorge in realtà passa dall'essere disperata alla gioia dell'incontro con l'amato questo incontro ha come centro il riconoscimento personale gesù e maria maddalena si chiamano per nome anche questa è un'immagine potentissima che ricorda l'intimità della relazione dove ci si chiama per nome chiamarsi per nome è come dire io ci sono per te come tu ci sei per me ma non è finita perché c'è ancora qualcosa di importante che completa il quadro quando abbiamo conosciuto questo amore dall'incontro personale con dio stesso non possiamo fare a meno di comunicarlo agli altri questa gioia immensa non può essere trattenuta ma deve essere necessariamente condivisa e annunciata maria maddalena corre ad annunciare agli apostoli la bellezza e la gioia di questo incontro d'amore è interessante sottolineare che il mistero più grande del cristianesimo viene consegnato nelle mani di una donna possiamo dire che maria maddalena ha compreso gesù a un livello più profondo rispetto agli apostoli forse proprio in quanto donna aveva la capacità di accogliere la persona di gesù a un livello più legato ai sentimenti piuttosto che alle semplici parole questo senza dubbio ha fatto la differenza se hai trovato interessante l'esperienza dell'essere donna nella tradizione cristiana con maria maddalena fammelo sapere con un like passiamo ora a un'altra figura femminile nel contesto del buddismo stiamo parlando di machig labdron maestra e mistica buddista nata in tibet nell'anno 1055 dopo cristo nota per aver fondato il del chiod una pratica spirituale conosciuta anche come recisione dei demoni machig dai tibetani è considerata la personificazione della madre divina aria tara nel suo aspetto di praina paramita la perfezione della saggezza a 23 anni si sposò con lo yogi topa badra da cui ebbe tre figli questa sua scelta fu ampiamente criticata dato che machig labdron avendo vissuto tutti gli anni della sua giovinezza prevalentemente in monastero era considerata a tutti gli effetti una monaca anche se non è certo che abbia mai preso i voti monastici addirittura dopo il primo figlio la famiglia fu costretta a scappare a causa delle maldicenze e per anni peregrinarono in varie zone del tibet vivendo in condizioni estreme in questi anni di vita familiare e di povertà machig non abbandonò mai la sua ricerca spirituale integrando la sua esperienza di maternità nelle pratiche e nell'insegnamento del dharma a 35 anni compie un'altra scelta importante non senza sofferenza ovvero quella di tornare a dedicarsi completamente alla vita spirituale lascia i suoi figli con topa badra e pochi anni dopo fonda zangri kangmar quella che sarà la sede principale dei suoi insegnamenti e delle sue attività fino alla fine della sua vita in questi anni la sua fama continuava a crescere e i suoi insegnamenti si diffusero in india e nei paesi limitrofi in seguito i suoi figli la raggiunsero a zangri kangmar divenendo suoi adepti e mostrando un grande potenziale come praticanti col tempo divennero i detentori chiave del lignaggio dei suoi insegnamenti e vissero con lei fino alla sua morte alla veneranda età di oltre 90 anni senza dubbio la vita di machig labdron offre un esempio di come l'essere donna e madre possa fornire un contributo unico al cammino spirituale nonostante le oggettive difficoltà nel conciliare la vita familiare con l'essere una maestra della spiritualità buddista machig attraverso il suo ruolo di madre ha imparato l'importanza della cura della protezione e della gentilezza amorevole qualità che ha poi integrato nei suoi insegnamenti tra questi molto interessante è la pratica spirituale del chod altresì detta pratica della recisione dei demoni per machig labdron fu determinante l'incontro con il maestro indiano padamba sanghie quest'ultimo le consegnò il suo testamento spirituale accetta ciò che ti ripugna aiuta quelli che ti sembra impossibile aiutare abbandona tutte le cose per cui provi desiderio va in luoghi che ti suscitano paura tipo i cimiteri sii sempre attenta e consapevole trova il buddha dentro di te questi insegnamenti furono integrati da machig nella pratica del chod che infatti si sviluppa sulla base di un immaginario prettamente cimiteriale fra i demoni e gli spiriti dei defunti lo scopo ultimo è la morte dell'ego ascoltiamo le parole di machig labdron fino a quando c'è un ego ci sono i demoni e quando non c'è più un ego non ci sono nemmeno i demoni nel rituale del chod immaginando la distruzione simbolica del corpo che poi viene offerto come cibo a tutti gli esseri senzienti si attua il distacco da ciò che è destinato al deperimento e contemporaneamente si compie un gesto di compassione verso tutti gli esseri che ne pensate vi è piaciuta la storia di machig labdron scrivetemelo nei commenti credo che i più attenti fra voi si siano accorti che fra maria maddalena e machig labdron ci sono dei punti in comune quello che risulta subito evidente da questi racconti è che entrambe si soffermano nel contemplare la morte come parte integrante del loro cammino spirituale maria maddalena rimanendo presso il sepolcro vuoto sperimenta la disperazione e il dolore della morte ma proprio contemplando questo amore di gesù che arriva fino all'estremo incontra la risurrezione e la vita nuova allo stesso modo machig labdron integra nel lignaggio del chod la contemplazione della morte e della rinascita dove il distacco dall'ego e l'offerta del corpo simboleggiano la compassione universale e il superamento della sofferenza inoltre entrambe le donne affrontano critiche e difficoltà nel loro cammino spirituale da un lato maria maddalena deve sopportare le maldicenze sulla sua reputazione ma rimane fedele al suo amore per gesù e alla sua missione di annunciare la buona notizia della risurrezione dall'altro machig labdron nonostante le critiche per la sua scelta di sposarsi e avere figli continua a perseguire la sua ricerca spirituale fino a diventare un punto di riferimento nel buddismo tibetano si potrebbe dire che l'apparente debolezza dell'essere donna in realtà è la vera forza dell'essere umano le cosiddette qualità forti come l'orgoglio il potere il dominio chiudono nella sterilità della solitudine sono l'inferno al contrario la dimensione femminile testimoniata da queste due donne è parte essenziale della ricerca spirituale offrendo un modello di apertura alla vita di resilienza e di coraggio che culmina nella bellezza dell'amore universale e nella compassione per tutti gli esseri senzienti se desideri approfondire altre tematiche spirituali nel confronto fra le prospettive del cristianesimo e del buddismo ti lascio questa playlist di video che potrebbero interessarti e ti invito a iscriverti al canale namastè e che dio ti benedica